Buongiorno a tutti, io sono Mattia, docente madrelingua d'inglese presso il centro Mensana di Brescia and this is English Bytes by Mensana Oggi ci occuperemo di una frase Every cloud has a silver lining che tradotto letteralmente significa ogni nuvola ha un profilo argentato questo perché quando una nuvola si mette davanti al sole assume appunto un profilo argentato questo ci fa capire che dietro alla nuvola c'è il sole e quindi che dietro ogni situazione negativa c'è sempre un lato positivo da apprezzare Per oggi è tutto, ci vediamo venerdì prossimo su English Bytes by Mensana Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e non dimenticarti di passare a visitare i nostri social che trovi in descrizione e il sito www.mensana.info Farewell e... ok